Che cosa manca in questo cimitero? Manca una pedana elevatrice per i disabili, le persone anziane che hanno diritto come tutti andare a trovare i loro cari che sono nei loculi a piano terra. Lui è Alex, un ragazzo disabile che ha un grande desiderio da ben 28 anni, andare a pregare sulla tomba del fratello con il quale era molto legato. A un mese di distanza dal decesso Alex fu coinvolto in un grave incidente che oltre a provocargli diversi problemi lo costrinse a rimanere su una sedia a rotelle. Le barriere architettoniche gli impediscono di accedere al piano inferiore del cimitero urbano e questo suo grande desiderio non è ancora riuscito a realizzarlo. Alex ha un fratello che ci tiene tantissimo perché erano legati molto molto e vorrebbe ogni volta andare a trovare Mirko e noi siamo ad una certa età, a parte che è impossibile. Ci abbiamo provato e con la carrozzina a farlo scendere con il rischio di farlo cadere ma ci abbiamo rinunciato. Alex non è mai riuscito ad andare a trovare il fratello? A me ha detto 8 anni non è mai potuto andare a trovare il fratello perché ha avuto un incidente un mese dopo della morte del fratello e bastava. Due drammi a distanza di poco tempo superati giorno dopo giorno con tanta forza da parte dei genitori di Alex ma che oggi hanno deciso di lanciare un appello affinché il loro figlio dopo tutte le sofferenze e le difficoltà subite possa finalmente pregare e appoggiare un fiore sulla tomba del fratello. Non ho mai fatto nessun reclame perché ci accontentevamo di portarlo nel pianerottolo, lui gli parla a mano di Mirko, se riuscivamo a farlo vedere è mai impossibile e chiaramente viene via sempre con un grosso malcontento perché io voglio vedere Mirko, voglio vedere la tomba di mio fratello. Purtroppo non è possibile e quindi chiedo questo se non solo per altri, perché i disabili oggi come oggi ce ne sono tantissimi, per lui, per altri e le persone anziane che non ce la fanno a fare le scale. In primis io perché faccio un po' di fatica anch'io, comincio perché andando avanti, però è più che altro per loro. Un problema che riguarda tante persone? Certo, certo, tante persone perché chi può scendere con una carrozzina di sotto con le scale che abbiamo, è possibile che non si possa fare una pedana, ci sono tante cose per i disabili, per poter scendere un buco con una pedana elevatrice e tutti hanno il diritto di andare a trovare i loro cari. Una pedana che renderebbe felice molte persone e anche Alex? Senz'altro perché lui l'ha sempre desiderato, molto molto. Grazie mille, ciao Alex, ciao!